All'Ital Service Pesaro Calcio 5 serve un'impresa nel prossimo turno. Domenica alle 18.15 i biancorossi accoglieranno al palafiera la fel di Eboli, seconda in classifica a meno 4 dalla capolista Napoli. I ragazzi di Mister Colini vengono da due vittorie e due pareggi nelle ultime 4 di campionato e per cercare di evitare i play-out sono a caccia dei tre punti, gli stessi che li separano dall'ultimo posto in zona salvezza occupato dalla Niene. Alla vigilia della partita la classifica recita Ital Service 34 punti, fel di Eboli 55. E pensare che lo scorso anno fu finale scudetto, con la squadra di Pizza a festeggiare il terzo tricolore consecutivo. In questa stagione però le ambizioni dell'Ital Service hanno dovuto fare i conti con la realtà. A due giornate dal termine, tra i biancorossi e la sua inseguitrice Monastir, ci sono attualmente 5 punti di distanza e i play-out non si giocheranno se ci saranno almeno 8 punti fra le due contendenti. Pesaro vincendo ha dunque due opportunità. Staccare di altri tre punti il Monastir e cancellare i play-out, oppure rimontare e sorpassare chi la precede in zona salvezza. Certo è che Ital Service dovrà portare a casa 6 punti tra Feldi Eboli e Padova all'ultima giornata, se vorrà essere certa di un finale di stagione festoso e senza preoccupazioni.